Cosa pensi del western politico? Quali? Beh, alcuni autori italiani hanno fatto, secondo me, per difesa... E' che probabilmente hanno usato il western per interposto mezzo per dire altre cose. Il più bello, per quello che ricordo, è quello che ha fatto Damiani. E chi ne sabe? Chi ne sabe. Eccezionale, stupendo. Commovente addirittura, il finale straordinario. Quest'uomo che senza coscienza fa qualche cosa, perché la coscienza lo si dice, ma lui non lo sa ancora. Si sta maturando, quindi trovo che è stato straordinario. Forse è il più bello di tutti. Perché vuoi ammazzarmi? Chi ne sabe. Ma come chi lo sa? Lo sai perché? Lo dovrei sapere, no? Io lo so il porche. Io so che tengo un porche. Aspetta, devi parcare. Tornalos estados unidos! Gainamite!